Ehi sono io Bambidi, sto comunicando con voi telepapitamente Volevo avvisarvi che sono riuscito a raccogliere tutta l'energia necessaria per risvegliare Majin Buu Se non sapete chi sia Majin Buu, presto conoscerete Majin Buu Perché risveglierò Majin Buu e Majin Buu ci darà la terra Majin Buu Quindi preparatevi che stiamo per arrivarvi Sei un copione Bambidi, anche io avevo fatto un video così Se non sai avere delle tue idee almeno non copiare quelle degli altri Non è che ci sia scritto sopra il prefetto il nome Sal Ci sarà magari scritto Majin Buu